Ciao, io sono Giuseppe Iacono e sono l'autore, il protagonista e soprattutto il regista del film L'ultimo tango spaghetti noir lungometraggio. Il mio film è il risultato di una riuscita quanto sorprendente, sorprendente perché è riuscita campagna di crowdfunding. Si tratta sostanzialmente di una detective story che si rifà un po' all'atmosfera anni 40 ma soprattutto ai poliziotteschi anni 70 italiani. C'è da considerare che si tratta di un tramedi, ovvero una commedia drammatica, quindi la sua stessa essenza consta nella contaminazione, fermo restando che si attesta come un film appartenente al mio territorio, la campagna, nella fattispecie l'area napoletana. La cosa bellissima dell'esperienza dell'ultimo tango è stata la compartecipazione di un sacco di emergenti, oltre che al sostegno di un sacco di attori famosi che si sono prestati a un progetto di cui hanno apprezzato principalmente l'idea indipendente e perciò in un certo senso non pura. L'ultimo tango ha girato moltissimo un po' in tutto il mondo, dall'Asia agli Stati Uniti, chiaramente all'Europa, all'interno di un sacco di rassegna e festival. Inoltre mi ha dato un sacco di soddisfazione e anche qualche award. Spero che questa ennesima kermesse porti fortuna a me e a tutti gli altri partecipanti. In bocca al lupo a tutti, ciao!